Ciao a tutti, sono sempre io, Maddestroyer, e oggi, in attesa di Juventus Roma, perché sì, siamo in Ben, nel sabato 17 dicembre 2016, parlerò dell'acquisto, ormai probabile, ma più che probabile, definitivo, perché se era probabile oppure un 50% non facevo il video, di Paoletti del Genua, che passa al Napoli. Non so per quanti milioni, ma so che questo ragazzo ha fatto le visite mediche. Allora, perché io sto parlando di un giocatore che adesso è del Genua? Sì, ma che adesso diventerà del Napoli. Perché non parlo della mia squadra? Prima di tutto perché ogni tanto mi piace sempre fare dei punti in cui parlo di squadre in Italia, all'estero come ho fatto con l'Eister, con la Roma, con i migliori giocatori della Roma che potrebbero fare la stagione quest'anno, che potrebbero far vincere l'Europa League, e anche perché mi piace essere imparziale, mi piace essere ovviamente di andare d'accordo, insomma con tutti voi, perché non tutti che si sono iscritti al canale sono giuventini, come per esempio io, faccio un esempio subito, sono iscritto al canale di Seek Wolf, non sono romanista, ma sono giuventino, perché lui è sportivo, dice, tratta tutti gli argomenti di tutte le squadre in Serie A, quindi è una cosa che fa piacere. Ora, chiusa questa parentesi, volevo dire la mia. Allora, non c'è molto da dire, però volevo fare questo video, perché ci diremo appunto a questa storia delle squadre in Serie A. Allora, è un acquisto molto intelligente, molta gente dirà, eh ma sì, ora rientra Milik, però, allora, mettiamo la situazione, facciamo il punto della situazione. Milik è un attaccante che è strano al campionato di Serie A, sì, stava facendo molto bene, ma ritorna da infortunio molto lungo e non si sa nemmeno se ritornerà entro gennaio o entro febbraio, per cui intanto si sono presi Pavoletti, che è un attaccante che sta facendo benissimo al Genoa, e ora il discorso di ambientarsi vale per tutti, cioè non è che dice prendo Pavoletti, anzi no, non si ambienta, anzi prendo un'altra punta che si ambienta. Per esempio, questo è un discorso subito, perché se tu devi fare un acquisto è normale che si ambienterà nel tempo. Ecco, questo era quello che volevo dire, per cui hanno preso Pavoletti e secondo me è stato un ottimo acquisto, quello che sta segnando di continuo al Genoa, che sta facendo godere le persone a fantacalcio e che è rientrato nell'infortunio, ma ha fatto vedere che è ancora in forma, quindi è un piccolo infortunio che non influenza le prestazioni e non influenza il rendimento del giocatore. Quindi ottimo, ottimo, ottimo acquisto. Ma poi, come si farà con Pavoletti e Milik? Allora, come si farà? Allora, mettiamo il punto sulla cosa che Milik non rientrerà prima di metà febbraio, quindi Pavoletti giocherà le partite tra gennaio e febbraio conoscendo la Serie A, quindi, conoscendo la Serie A, si ambienterà con la squadra e farà un'ottima stagione, secondo me, con il Napoli. Finirà il campionato bene e il Napoli, con questo acquisto, vuole far intendere che non punta solo al campionato a risalire, ovviamente, ma anche alla Champions, quindi contro il Real, probabilmente, sì, può essere che rubi per Milik, non può essere, però tu contro il Real devi giocare con una punta, quindi hanno fatto capire che serve anche per la Champions e quindi Pavoletti e il Real contro il Real sembra una cosa che fa ridere, ma Pavoletti è un'ottima punta e non possono far giocare Gabbiadini, che è un esterno, quindi sarebbe un riadattamento, è una cosa orribile. Quindi, per far continuare, insomma, la tattica, sempre la stessa tattica, Pavoletti è un attaccante simile a Milik e a Equain, che segna che la mette dentro e che è capace non solo di aspettare la palla dentro l'area, a tirare, ma anche di far girare la squadra. Quindi, io credo che sia un acquisto intelligentissimo. Poi, qual è il problema se sono in due? Il problema è che se giocherà uno, giocherà anche quell'altro, io credo di sì, credo di sì perché Milik potrà ritornare a febbraio, però potrà riadattarsi, potrà riprendersi dall'infortunio, ritornare in forma magari anche a marzo e a maggio. Quindi tu intanto lo fai giocare, lo fai giocare un po' di partite, lo fai entrare dopo Pavoletti, Pavoletti ovviamente rimane il titolare, secondo me, lo fai entrare dopo Pavoletti e poi piano piano, quando si rimette in forma, si rimette in forma per l'estate e ovviamente per ricominciare un'altra stagione. Io credo che sia questa l'intenzione, è un'intenzione molto saggia. In senso, io ho interpretato così, era questo lo scopo del video, interpretare la situazione del Napoli adesso. Quindi, io spero che questo brevissimo video, ma comunque sportivo, che tratta anche le vostre squadre, vi sia piaciuto, uscirà comunque il video sulla Fiorentina, sulla migliore squadra di tutti i tempi, ovviamente come ho fatto con il Napoli, perché era una bella serie che volevo continuare e da un po' che non la faccio. Quindi, forza Juve stasera, forza Juve pronostico sotto i commenti, ragazzi. Ognuno che ha visto il video dovrà inviarmi il pronostico nei commenti e chi vincerà verrà salutato nel mio prossimo video. Quindi, che aspettate? Andate sui commenti, pronosticate il risultato di Juventus Roma e ci vediamo sempre qui sul mio canale. Ciao a tutti! Ciao!